Arriva l'urban food planning e il cibo e l'agricoltura diventano materia per urbanisti, architetti e sociologi dell'ambiente. Sono 30 anni di intenso impegno e lavoro di centinaia di amministrazioni locali che hanno inteso già dall'inizio valorizzare i propri territori, fare rete, mettere insieme le esperienze e cercare di migliorare l'offerta anche dal punto di vista delle scelte politico-amministrative per andare nella direzione di una crescita di un comparto importante che è quello del vino in una logica di sostenibilità e anche di compatibilità con i tessuti urbani. Un nuovo strumento di pianificazione e riorganizzazione dei territori a vocazione enogastronomica, un progetto che rappresenta la naturale evoluzione dei piani regolatori del vino. L'urban food planning è infatti la nuova frontiera dello sviluppo sostenibile di città e aree metropolitane, un programma complesso che parte da valutazioni semplici, il cibo al centro della nostra vita oltre ad avere evidenti connessioni con l'ambiente è anche motivo di viaggio e scoperta di territori. Ed è partendo da questo assunto che la città del vino sta promuovendo tra i 407 comuni associati questo innovativo strumento di programmazione urbanistica e rurale che mette l'agricoltura al centro del futuro. Intanto Castelvendele è in provincia di Benevento e abbiamo un primato in Italia, è il paese più vitato d'Italia, qualcuno dice più svitato nel senso che abbiamo investito sui vigneti. Il fatto di aver investito così tanto sui vigneti, pensa che in quattro paesi, quattro, tutti piccoli, noi produciamo un milione di quintali di uva all'anno. Ma questo fatto di produrre tanto, lo dico tra parentesi, noi per esempio abbiamo messo al bando il grifosato e dei serbanti, da noi non si può usare nulla di tutto questo, di contro a questa grossa produttività, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo conservato un territorio intatto, ci sono i vigneti, ci sono le erbe sotto, è l'agricoltore stesso che in qualche modo si è fatta ecologista, quindi preserva il suo territorio perché ha capito che preservandolo ne fa motivo di guadagno. Già sperimentato all'estero, in città come Toronto e Calgari, il cibo e l'agricoltura diventano elementi centrali di una città o di una rete di comuni e territori. I tervitis, le cemento della vigna, l'itinerario culturale che appunto sta muovendo lentamente i suoi primi passi, ma anche questo diciamo è un aspetto importante perché va a cogliere quell'aspetto, diciamo, che poi è uscito bene anche nel testo unico del vino, il vino è il patrimonio culturale della nazione, i paesaggi e così via. I tervitis appunto significa, ecco, diciamo, questo percorso, questo viaggio tra i paesaggi e i territori del vino italiani ed europei che sicuramente, diciamo, in un prossimo futuro avrà successo. A Milano, Parma e Torino si sta sperimentando la food policy che qualifica la qualità del cibo e delle menze.